c'è un film di stilessica oh yeah ragazzo andiamo siamo qua nella vetta in alaska del monte ulu dopo 1860 anni quella è una torre dove costruiscono vaccini andremo là l'infernazione è cadere da quel versante scalare e arrivare al torre del martino e ritarsi dei vaccini per uno su yeah boys Cesare è tosta questa che vista raga e lui può arrivare là siamo a metà strada per raggiungere la vetta del monte ctululu e da già qua vedo un gruppo di vaccini che stanno volando lassù oh si è fatta una bella pettata ragazzo andiamo da qui no? o da lì ok siamo arrivati siamo arrivati wow ho visto tre macchine volanti siamo siamo ufficialmente scrodetta a 9850 ragazzi siamo arrivati guardate i fighe paleoliche che vista anche da qua raga bello bellezza e quello raga il monte tururu che vuoi fare questo è il monte turu vieni anche tu con il neotraspiratore si fra ci facciamo la blockchain smart ma Cesare fra non è che scivola lui proprio si struscia oh fa un po' male la cavia fra dello switch guarda benissimo il duco in mezzo a tutti questi alberi sono morosi ora stiamo cercando l'accampamento dei contrabbandiati vaccini a posto stiamo preparando il terreno per mangiare e spaccare oh io mi faccio un bacchetto adesso sto preparando il caffè qua con questo comodo fornellettino microscopico pesa 20 grammi che fanno adesso duco? ma se risale adesso segue il sentiero si prova di bambetta eh ma ci siamo arrivati prima ma no non vetta l'am vetta dell'altro monte come ha detto il cacciatore se si va a destra si arriva a vetta al monte yes man per la scalata guardaci qua qua è passata una famosa gallina dei bancini ma se ne riscende dai 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 si si prova figlio ci siamo arrivati sulla strada ci siamo arrivati sulla strada ci siamo arrivati sulla strada oh raga ma quindi oh raga ma quindi non è non è non è è che lo è che non è meno Arrivati al sentiero! Ciao! Fight! Holy shit! Holy shit! Holy shit! E' infiltrato! Orcocan! Orcocan! Oh! Infiltrato il braccio! Direi di porco! Orcocan! The winner is neutro! Let's go! Gamba! Oh! Guardate le macchine! Sì, sì, così! Sì, sì! No, no, no! Prendite! Prendite! Prendite la roccia! Si l'ha fatta! Ciao! Oh, yeah!